A Misano con Alessandra Belloni perché c'è una novità nel panorama motociclistico. Ciao Alessandra, intanto benvenuta, ciao. Ciao, grazie. Allora, cos'è questo splendore tutto in carbonio che abbiamo davanti? Allora, questa è una nuovissima, l'abbiamo lanciata allora a ECMA a novembre 2023. Un nuovissimo progetto per quello che riguarda il mondo delle mini GP. Come potete vedere è una mini GP che tenta di assomigliare più a una moto vera, una moto in scala. Pensate inizialmente principalmente per l'allenamento dei piloti professionisti. Infatti l'idea del mio sviluppatore tecnico Eros Bracconi era proprio quella di dare una moto affidabile e molto simile a quello che è una moto, quindi ci stacchiamo un po' dal mondo delle mini moto, mini GP, ci avviciniamo più al mondo delle moto vere e proprie. Era quindi quello di dare una moto d'allenamento affidabile per i piloti professionisti. Tutta fatta in Italia, gli unici due elementi che non arrivano dall'Italia sono solamente il fodero della forcella anteriore e i cerchioni. Tutto il resto è interamente fatto in Italia e sviluppato proprio qui. Allora, ti dicevo all'inizio tutta in carbonio. Sì, è vero carbonio, cioè non è quello rapato. Questo è carbonio? Questo è carbonio, è una versione disponibile, ovviamente è un optional, però è possibile avere la carenatura completamente in carbonio. Ci sono anche le tante amate alette così di moda in MotoGP adesso, ma scendiamo un attimo nei dettagli. Motorizzazioni disponibili? Allora, le motorizzazioni sono due. Partiamo da un 125 che è un motore Minarelli, per quello andiamo sull'affidabile. Abbiamo sviluppato poi un motore più potenziato che arriviamo a 185 di cilindrata. Quindi due cilindrate, 125 e 185 chiaramente a marce? Esatto, sì, sono sei marce, motore quattro tempi. E questo modello che è già in vendita, è già ordinabile oppure siamo proprio alle soglie dell'apertura del mercato? Allora no, è già ordinabile. Abbiamo aperto già le richieste d'ordine, quindi è possibile già acquistarla. Ovviamente è una moto più artigiana, più artigianale, quindi i tempi di attesa magari possono variare anche a seconda delle nostre disponibilità, anche se al momento siamo pronti per dare i primi 25 modelli. E ricordiamolo, l'indirizzo web del sito? Sì, è eramoto.com Eramoto, ricordatevolo, l'h va dopo la e, quindi era, e-h-r-a-moto.com Mi dicevi fuori onda che sì, è stata pensata per allenarsi, quindi l'allenamento è stato fatto da Andrea Migno, insomma ex pilota del moto mondiale, che ha provato questa era. In che configurazione l'ha provata? Sia 125 che 185? Esattamente, con Andrea siamo andati a provare anche prima della fiera, prima di Eicma, ci ha aiutato molto anche proprio nel testarla, quindi è stato di grande aiuto per questo, e ha provato entrambe le versioni, la 125 e la 185. Ora tu devi sapere che da casa si farà una domanda, che è la classica, bella, figa, sta moto, carbonio, le alette, Io non voglio sapere il prezzo preciso, però l'ordine di idee, più o meno, per il 125 e per il 185? Allora, sul 125 standard, in questo momento che abbiamo deciso di dare un prezzo lancio, quindi un po' più amico come prezzo, siamo sui 9.500 per la 125 e 11.600 per la 185. Perfetto, quindi sono comunque prezzi per una moto made in Italy assolutamente concorrenziali, dove correrà, ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando, sicuramente sono moto che si prestano chiaramente a dei campionati, trofei monomarca, quindi vedremo cosa ci riserva al futuro, per il momento io vi dico bravi perché è splendida, bravi. Grazie, grazie, merito dei miei progettisti.